Musica Le notizie di oggi giovedì 9 di marzo, bentornati. Un boato improvviso e un ponte che crolla sopra il tracciato autostradale. Un gravissimo incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla corsia in direzione sud della 14 nel tratto tra Loreto e Ancuna Sud. Sotto il ponte è rimasta schiacciata un'auto e due persone sono rimaste uccise. Gravissimi anche due operai che erano al lavoro sul posto. Cambiamo argomento, è stato ritrovato nel tratto di spiaggia libera di Marzocca un delfino Tursiope della lunghezza di 2 metri e mezzo. La carcassa del cetaceo in avanzato stato di decomposizione è stata recuperata dalla guardia costiera affidata al servizio veterinario per gli esami del caso. Rientra nel progetto la nuova me, la Pink Room allestita presso la clinica di oncologia medica dell'azienda ospedaliera Ospedale Riuniti di Ancuna celebra un anno di attività e la ricorrenza è stata festeggiata in occasione dell'8 di marzo. La Pink Room rientra nel progetto la nuova me per aiutare le donne a riappropriarsi della propria immagine fisica e della propria identità psicologica. È un ambulatorio, è una stanza colorata dove noi possiamo offrire gratuitamente alle donne con tumori femminili consulenze specialistiche mediche, visite senologiche di chirurgia plastica, di nutrizione ma anche consulenze complementari al percorso di cura quindi visite estetiche, quindi consulenze di esperti di capelli e tecniche di rilassamento. Questa mattina presso la sala d'attesa di oncologia dell'ospedale di Senigallia si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell'ottava nota un progetto reso possibile grazie alla sensibilità della famiglia Rocchetti che ha donato un pianoforte in memoria della signora Agata Rocchetti questo momento è l'inizio di un percorso di accoglienza e di sostegno ai malati oncologici e ai loro familiari. Il restaurato Palazzetto Baviera che sarà inaugurato il 13 di aprile è pronto per ospitare anche la celebrazione di matrimoni con rito civile il sindaco Mangialardi aveva annunciato l'intenzione di adibire la nuova casa-museo oltre a sede di mostre, esposizioni e convegni anche a location per i fiori d'arancio la giunta nel frattempo ha varato la delibera con cui si individua lo storico edificio come idoneo alle celebrazioni di matrimoni con rito civile. In occasione della giornata mondiale della donna ieri mercoledì 8 di marzo nell'ambito delle iniziative organizzate dal comune di Senigallia raccolte sotto il titolo Donne fra le righe è stata graditissima ospite presso il liceo scientifico medi di Senigallia la dottoressa Lucia Botano. Abbiamo pensato di inaugurare questa giornata incontrando i ragazzi delle nostre scuole in quanto l'8 marzo è un augurio che facciamo a tutte le donne ma soprattutto è un augurio verso un mondo migliore e quindi credo che non ci sia migliore opportunità che quella di rivolgersi e di parlare ai giovani in quanto discriminazioni di genere sono presenti nella nostra società ma il modo per far sì che non ci siano più proprio quello di estirparle fin dall'origine e quindi discutere, parlare con i ragazzi e far capire loro come essere donne, essere uomini abbia la stessa importanza, abbiano le stesse opportunità sia gli uomini che le donne. Un 8 marzo sicuramente differente, sicuramente da ricordare per le mie ragazze e i miei ragazzi abbiamo ospite Lucia Botano grazie all'amministrazione comunale all'interno del programma Donne fra le righe per celebrare non in modo diciamo così scontato la festa delle donne ma per verificare come le donne effettivamente possono assumere a ruoli che altrimenti sembrerebbero solamente relegate al ruolo dei maschi è un'esperienza importante, è un personaggio assolutamente unico la prima direttrice del laboratorio di fisica di un carico del Gran Sasso una scienziata, una studiosa assolutamente di fama mondiale una donna che dimostra come le donne possono essere veramente il motore del nostro futuro. In chiusura le condizioni del tempo di venerdì 10 marzo sulle Marche, cielo generalmente sereno, precipitazioni assenti, venti avvertibili soprattutto come brezze sud orientali in rialzo le temperature, previsioni elaborate da Assam grazie per averci seguito, a domani